Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video, nuovo video recensione. Si parla oggi, vi parlo oggi, di un prodotto Essence. Ve l'ho già mostrato sia sulle stories di Instagram quando l'ho acquistato, sia sulle varie fotografie che ho postato in giro sul web, sul mio canale, ovviamente. Se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, seguite le istruzioni che trovate qui giù. Giù nell'info box trovate tutti i link ai miei canali social. Sto parlando del 2 in 1 eyeshadow eyeliner di Essence, un prodotto che mi ha inizialmente delusa. L'ho comprato con tanto amore, con tanta passione, perché il colore mi è piaciuto tanto. Il numero è... eccolo qua. Questo è il numero 02, ed è il Peach Perfect. E, come dicevo, mi è piaciuto tantissimo il colore. L'ho comprato come eyeliner, come ombretto, perché comunque il 2 in 1 è proprio per quello. È un prodotto waterproof, quindi mi sono convinta. C'erano vari colori, questo è quello che mi è piaciuto di più. L'ho preso. L'ho pagato un paio di euro. Vabbè, vi scrivo qui sotto, da qualche parte, quanto costa. L'ho applicato e l'ho applicato con la base, ho messo la base per occhi. Ho applicato il mio eyeshadow e tenendo tutto nelle pieghette degli occhi, dopo neanche 10 minuti, il tempo di arrivare da qui alla porta di casa, e se n'è andato. Sono stata lì a rimuginarci un po' su, perché mi dava fastidio aver comprato un prodotto che non era nelle mie corde. E allora poi ho pensato, come riutilizzare un prodotto che in realtà è per gli occhi? L'ho applicato come illuminante. Guardate come. Lui praticamente, se è messo sulle zigomi, perché il colore lo permette ovviamente, non dico che gli altri colori facciano lo stesso, perché non lo so, non li ho provati. Però con questo colore qui, che è un rosa perlato, perlescente, e appunto illumina, se lo si applica sugli zigomi, è perfetto. Ovviamente va steso, perché se lo si lascia lì così, rimane proprio la striscia. Però se noi lo massaggiamo sugli nostri zigomi, sul naso, e anche sulla parte superiore del labbro, l'arco di cupido, ovviamente il risultato è perfetto. Quindi diciamo che il 2 in 1 eyeshadow di Essence può essere utilizzato come illuminante. E infatti per me questo non è più un ombretto, ma è il mio illuminante. E solo con questo, con la bronzatura, è perfetto. Io tutta l'estate non mi trucco, non come oggi che ho la BB cream della L'Oreal, di cui vi lascio il link qui su. E in pratica uso questo qui con un po' di terra. Metto la terra, metto il mio illuminante, dopodiché io sono pronta. In questo momento ho su la BB cream nude magic di L'Oreal, di cui vi lascio il link qui su nelle schede informative. Mentre come appunto illuminante ho l'eyeshadow 2 in 1 di Essence e ho come ombretto, ombretto della Kiko. Mentre il mascara è il mascara volume stylist 18 ore di Essence sempre, di cui vi lascio il link su nelle info. Il mio video termina qui. Spero che vi sia piaciuto, spero che soprattutto sia stato utile. Se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e seguite le indicazioni che sono qui sotto. Mi raccomando, trovate il link a tutti i miei canali social giù nell'info box. Ciao e alla prossima!